Buonasera, preghiamo insieme, preghiamo insieme con Maria, con le parole di Maria, davanti a questa immagine di Maria che nel suo turbamento riceve la rassicurazione dell'Angelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria dice la sua fede nel Cantico del Magnificat, dice la gioia, dice lo stupore, dice la portata rivoluzionaria dell'agire di Dio. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Maria parla di sé, della sua relazione con Dio, e Maria parla dell'umanità, di come Dio opera nell'umanità. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Le parole di Maria ci aiutino a riconoscere le opere di Dio nella nostra vita. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata. Grazie. 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 Grazie.